Salve a tutti amici e ben trovati, io sono Smith Terry ed eccoci qui per il momento di FIRA 20, il modernatore. Siamo tornando a M7 da solo in PIC, Lione. Nel sconsività abbiamo avuto l'attività di andare da Roma a perso perché non ho malamente. E poi la vittoria, tu si può accomodare tutto che ormai il gioco sembra, voglia farci soffrire per forza. Ma non sono tornati più forti, sto anno, l'anno scorso hanno sempre peggio, l'ho perso. Comunque oggi mi ritorno con la Roma e l'attività con la Mian, prima della Nazionale, quindi un po' di riposo nei nostri giocatori. visto che molti non andranno. Poi ho visto che c'è un certo Mule che è il marcatore della roba lì che si va alla mattina, suoni ecco che segna tanti gol, ma c'è lì anche il nostro René. Quindi pensiamo un po' a scuola da fare. Io ho fatto i tolari, ma forse toglierò la Warr per dare un po' di riposo e metterò lì René. Magari, ho anche Timberle perché ti chiedono che alla fine i suoi gol li fa. E mettiamolo qua lì in panchina. Allora adesso andiamo a parlare con la dirge, con i giornalisti. Andiamo un po' che ci chiede hanno. Ci hanno depesso, sovartita. Ecco. Sì, ho fiducia nei miei giocatori. Penso che è lo stato che noi possiamo riaprire e magari prenderci anche il quarto finale. Ah, dobbiamo giocare meglio. Non ci lasciamo collezionare, la squadra è l'estradinale, sono forti tutti dentro e fuori. E non ci possiamo battere queste cosette. Vedrete il prossimo capace. Ma te la pesta sono già il peggio. Ci passiamo tra uno contro Roma e in casa da Roma. Che cosa vogliono? Che cosa vogliono? Vabbè, andiamo a fare la squadra e andiamo un po' ad affrontare la Roma. Bene, questa è la squadra nostra. Qua che cambia, una squadra ibrida, retolari e riserva. Abbiamo messo i migliori di forma. Andiamo a se non ho messo Dembélé, in panchina mi sembra. E infatti mettiamo Dembélé a posto di Aguar, no? O sì? Sì, metto a posto di Aguar. C'è anche Almada, mettiamo Almada. Ecco, sono tanti da un giocatore. Dembélé lo mettiamo a posto di Andersen. Che è il numero di togliere alto. Quindi squadra questa. Pronte a fronte a Roma, alle Olimpiche. Alonzo che ci guardi col tuo... Quasi sei in modo sopra, ci guarda malissimo. Bene, eccoci qui. Siamo a casa nostra. Pioggia, va bene. Non ci lamentiamo. Pronte a fronte a Roma, a Roma. Anche a vendicarci e cercare di stappare il quarto finale di Roval League. Non è il nostro obiettivo principale. Il nostro obiettivo è avere più... Come dire... Più potere... Può gli dico no. Diciamo più visibilità dell'altra squadra. Vedete che lì non è stata ai partici del campo francese. In Europa fa bene. Non sarà niente facile, ma noi abbiamo l'obbligo di provarci. Cosa che siamo a casa? Dovamo forzare con un po' di tolari. Intrattate da tutte le riserve. Alcuneo stancho, la coppia con Rottolos. Che c'è tutto tanto spazio. 3-1. Ragazzi, si può fare. Alle Olimpiche. Alle. Grande Lucchino. Ex-1 di Mnull, ma l'ultimo fermo. Con cattiveria. Sì. Ora non puoi prendere il numero. Ok. Mnull, qua non difende. Corre il doppio di quello che fa in attacco. Il realismo, sì. Vai René. Guarda finisci fra le linee. Guarda finisci fra le linee. Vinisci. Si vede perfettamente. Vinisci. Vinis. Il tiro. E subito 1-0. Voliamo ragazzi. Voliamo. Silenzio. Silenzio, ragazzi. Subito. 1-0. Bene. Palla a Dolettino. Doro. Non so come è passata. E l'1-0 di Vinisci. Che non sbaglia davanti a Paolo Ops. Ho avuto paura di sbagliare. Tanta paura. Ma facciamo un gol. 1-0. Subito. Si è stato un po' messo, riavvicinato. Un altro gol. E noi passeremmo. Con sicurezza. Ma noi proviamo a fare più cose. Noi passi gioco. Quindi all'Olympic. Allì. Memphis. Sto tranchetto un po'. Vai Vinisci. Così sei caldo. Lascialo lì Alonso. Lascialo lì. Vinis. Può entrare in area. Palla per Memphis. No che sei mangiato Memphis. Mi ha fatto un tocchetto leggero. Un passaggio con la Ispura. Per la parola di troppa forza. Mi sbagli. Si passaggi. Si gola. Memphis. Vinis. Al centro. Per René. Il tiro. E la parola del Milo. Troppo lontano René. Per provare a fare go da lì. Troppo lontano. Dino. René. Fatti vedere pure te. René. Un po' di spazio. Il tiro. E il boom si chiude. Vabbè. Per il primo tempo. 1-0. Tanti cosbati. Un po' di cosbati da Memphis. Mi avevo aspettato da lui. Potrebbe essere un bel 2-0. Poi potrebbe fare il Milagri. Pensa che ora è diventata forte. Last per il gioco 1-1. Anche se è vinto da 0. Quindi Last per il gioco è in vantaggio. L'Inter vince da 1. E l'altra parola di Sporting 1-1. Vediamo un po'. Non mi ricordo di vedere chi passerà. Sono davvero curiosissimo. Però adesso penso a noi. Forza ragazzi. All'Eno. L'impicca. All'Eno. Il gol è lì. Nell'area. Proviamoci. Abbiamo l'obbligo di provarci. Di riuscirci pure. Vabbè. I poteri più rinca però. Ci arrivi. Ci arrivi. E vabbè. Ancora fallo. Ma io ne devo fare per avere un fallo. Oh. Ma ho avuto da terra. Ma stiamo scherzando? Cornel sei più veloce di Yerai. Dai. Non puoi essere più veloce di te. Sei un 90 maiezione. Un 90. E vabbè raga. Ci ho provato. Ma la porta è chiusa. Mentre abbiamo. A meno l'unità sta partita. Ma sono un gol fatto. Cioè. Guardate qui i tiri. 7 tiri in po'. Quattro vabbè. 7 tiri. E non ho fatto niente. Solo un gol. Portere in dove si è miracoloso. Il Chelsea Rossi ce l'ha fatta passare in calibre. L'Inter passavo pure. E non mi sono fuori. A me ci troviamo un esempio. Allora. Il Lione si è eliminato. Ok. Per vincere con il traspetto Atalanta. Ci mancava un gol. Un gol e passavo noi ragazzi. Un gol solo. E non c'è altro segnale il gioco. L'Inter vincevano dominando. Il Chelsea passa. Per il gol in trasferta. Vedete. Non era nulla che passa il gol in trasferta. Anche noi passavano il gol in trasferta. Poi Betis passa Ajax. Poi passa il Marcia. Miracolo. In Milan. E il Verde Brema. Però davvero. Davvero non so più cosa fare. O se lo metterebbe a posto di Cadeguerri. Ha fatto fino a un bel passaggio per il Vinicius. Un po' molli. Sono mancati un po' di giocatori. Se non subiva quel gol di Müller. Il terzo gol. Mi sembra non si fa senza di Müller. Con Conè. Che lo tiene in gioco. Questo era un nostro passaggio. Ma non si va la storia. Ah. Il match per intervallo. Ci piglia anche per il culè. Ecco. Tipo si è mettato di più sicuramente. È un peccato ma. Oggi conciuteremo sul campionato. Sulla coppa nazionale. E devi fare il nostro. Ora lì. Va bene. Con me è infortunato. Anche in Italia. E neanche l'ammo nei sette giorni. Non è che sono sette giorni. Però davvero. Sempre che mi infortunano i giocatori. Nel volta. Mi infortunano. Mi infortunano. Avete fatto la mia. Dai. Abbiamo otto punti. No. E per qua sono. Cinque. Non te ne ho in più. Ma sono otto punti. Sul passaggio. Che appare già. Ragazzi. Il campionato forse. Si sta creando. Prima possibile. Grazie a passaggio. Che ora. Inizia a sbagliare. Vediamo un po'. Io c'ho qui la finale. Col. Il Lille. E poi le 3 contro l'hangers. L'hangers potersi più sotto. Non si mette qua. Hanno la domenica. Così. Avevo tre giorni di riposo. No. Due giorni di riposo. Ok. Il gioco è. Spettacolare. Vi vediamo un po'. L'Europa League. Come sono. Chi è. Dovemmo avuto il frontale. Se passavamo. Che veramente. Su entry loop. E su Paolo per sempre. Gioco è buggato. Anche su. Quando mi avete visto. Non si può passare. Allora. Ajax. Marsiglia. Inter. Atalanta. Debilità. Roma. Chelsea. E Mila. Verde e Brema. Oh. Verde e Brema. Che ci sta fa. La scorsa più scassa che c'è lì. Ci sono anche tre. Quattro italiane. Ci sono quattro italiane. Ai quarti. Però due solo si scondono. Va bene. Favamo da stampa. Per affrontare la mia. Cos'è la migliore che è Brema. Salve. Salve. Tour 9. Ero. Di Dio Grandesan. Cioè. Non ho messo nei punti. Ma anche ho messo nei punti. Che dobbiamo puntare. Eh. Alla vittola. Scusami. Cioè. Noi non ho messo nei punti. Ma. Alla calciata di Gann. Ok. Quindi. Vi voglio salvare. Ma. Ci pensavamo prima. Non con noi. Scusate. Ok. Non vedo perché no. Anche se mi sa. Che la. Anche sarà. Cattivissimo. Oggi. La mia. Non sarà. Cattivissimo. Da battere. Loro dove cavolo sono. Loro. 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 Mi spiace. Ma. Io devo vincere. Non posso fare tre cose. Perdonami. Perdonase. Poi. Che. Pantaggio in Poi. Non avrà altre spalle. Spie difficili. Chi ci avrà. Avrai. L'Angers. Che. Non batte. Poi. Che ci avrà. L'Angers. Poi. Ci avrà. Il Dijon. Cioè. Tutte facili. Per il Pantaggio in Meno. Quindi. Dove vincere. Forse. C'è Montpellier. Che. Vrebbe. Sera. Una spia difficile. Ma. Infatti. Non penso che perdere ancora. Poi. Che c'è. Questa. Il Ren. Mi dispiace. Il Nance. Che è pure in forma. Però. Mi dispiace. Non è voluta la vittoria. Se. Paggia. Paggeremo. Stattamente. Grazie al gioco. Che farà il Miracle. Però noi. Ci premo. Dai ragazzi. Ale. Ale. Limpic. Ale. Oh. Sono. È stato. Ok. Questa è la squadra. Molti. Siamo stati a giocare. Con questa squadra. Non c'è. Sciutza. Tutto là. Perché. Non si trattano. Tutto è stanche. Con neanche fortuna. Quindi. Siamo costretti a fare così. E beh ragazzi. Andiamo. Bene. Se non essi davvero male. In effetti. Mi dovete anche trovare più alto. Mettere tutto il silo. Vabbè. Mi ha messo questa squadra. E non ci continuiamo. Sono qui pronti. A sfidare la Mian. A strappare una vittoria. Anche se dice il gioco. Vorrebbe che ne paraggiassimo. O perdessimo. Mi so che ormai. Nelle partite. Che possiamo anche. Ci basta. Nelle terzozze partite. Se stessiamo così. Un pareggio. E noi siamo già campioni. Quindi. Mi dispiace per loro. Ma. Da cercare di fare più punti. Non posso perdere punti. Non ho nascosto utilmente. Dembélé che è vicino a fare gol. E 30 gol. Regolo e 44. 44. Facciamo in nove giornate. Dembélé. 14 gol. O fare. Solo 14. O 15. Vabbè. Da. L'inpeak. Ale. E ancora loro hanno il pallone. Cioè. Non so fare più le famiglie. Come un po' la mattina. Sempre a loro. Dubbaki. Sembra super bello. C'è cosa. 16 gol fatti. Ok. Questi qua ci faranno tre gol. 16. Questi qua hanno 16 gol fatti. C'è. Vabbè. Pregione di fare. L'attacco del campionato. E vabbè. E ve l'ho detto. E l'ho detto. C'erano gol. Teo. Non so che che era. Cioè. Io ero su con Teo. C'è il nuovo Teo. Che non c'entrava un cavolo lì. Guardate. C'è guardate qui Teo Fernand si è messo sulla destra. Che lì c'era già Lucas. No. Teo. Essendo pari c'è il gol. Quindi. Dove fare un cross buono. Teo. Io te lo ne esce. Una zero allora. Vabbè. Ragazzi. Il gioco non vuole fermarci. Ma noi. Non vogliamo. Non voglio fermarmi. Dembélé. Si gira. Proprio il tiro. E stavolta c'è il gol di Dembélé. E che cavolo si. Buola non può fermare sempre. Non so. Il nostro bombe che ambisce a fare 15 gol in nuove partite. Fattibilissimo. Sono circa due. Quasi due gol a partita. Per farlo non rai con Inligan. Ale. Dai. 44 vicino. Dai Dembélé. Musa. Facci il 31esimo gol. Riportate in parità. Come dovrebbe essere. E ora. Rompiamoci le ossa. Questi che hanno usato sfidarci. Sul numero dei gol fatti. Dembélé. Cerca un po' di spazio. Il tiro. Ma che gol ha fatto Dembélé. Da dove ha tirato. Da dove è. Da dove è passato. Dove è passato grande. Beh. Si cade arrabbiatissimo. La prima è scomparire un poco. E Musa. Fima. Doppietta. Che a fine no tempo. Ci porta in vantaggio. Su Drona. Io vedrei la pala. Allora il cavolo. È passato. Il ramano. Nel passato. Lui resiste. Guarda qui. Pala mezza. A due mezza. Più il terzo. Primo palo. E potremmo fare niente. Soprattutto il primo palo. È il nostro vantaggio. 2 a 1. Dovete denbélé. Che guarda. C'è i ragazzi. Ce la facciamo. Che in grida. Sui giocatori. Questo è veramente. Indomabile. Devo far giocare lui subito. Contro la Roma. Va bene così. 2 a 1. La caccia. Al primo posto. Con un turno di vantaggio. Ma anche al tiro. Capone canoni nere. Il record. La Ligan. È vicino. Il nostro giocatore. 5 tiri. 5 in po'. C'è stato. Cinicistico. La mia. Che ha fatto un gol su 2 tiri. Meraviglioso. E noi ricogniamo da qui. Forza ragazzi. All'Olympic. Siamo come funziona da qui. Dai. Proviamoci. Proviamoci. All'Olympic. All'è. All'è. Non. Non è quello della. Johnson. Johnson forse. Quello è. Guarda questo. E c'è il gol. C'è pure il dripping lì. Ripro il dripping. Mi pensavo a pensare alla passapria. Ma che. No. Ma come Ossi. Cuoco e tu che Ossi imitare il mio Depay. Come Ossi. Io piacevo a vuoto un evento. Anderstag. Io voto anche il passaggio. Ma che. Poi non mi sono andato. Poi si è tolto. Io non ho fatto questo momento. Sicuramente. E vabbè. 2 a 2. I cami. Bisogna farli. E entrano le pezzi grossi. Voi mi fate inarrabbiare. Ci penso. Io ho un altro. Incao qui. Dubois. Sale tra ore. Ecco. Mettiamo. Conè. Nel senso. E' un po' più offensivo. Contro queste. Cioè. Hanno stato facci Depay. Ringrazio che non c'era un panchino Depay. Se no Depay c'era il culetto. E non solo quello. Ti smocolosizzava. No perché sono stanchi. Guarda già Dama come corre. A Dama. Dembele. Perché sei così? A guarda. Il tiro. E' il 3 a 2. Subito. Subito. Contro i peggiori. Sitti. C'è la peggior difesa. Giù attacco che fa due gol. Contro di noi. E vabbè. Menor che ci fosse sempre. Però Dembele. Perché ti corri verso la porta. E rimai lì. Ok. Porti Valomo. Però un po' di distanze. Cerchi di avere tu palle. E vorrei far segnare te. In qualche modo. Guarda che tu. Dembele. Guarda che tu. Guarda il Kling. Come la figlia. Che vuole correre. Si vuole prendere il suo ruolo. Il sesto. Diciamo. Nel sesto. Nella panchina. Quello che entra il segno. La valla per Dembele. Che stoppa. Il tiro. E il 4 a 2. E la tripleto. Silenzio. Silenzio. Perché salta? Schip. Povera la sultanza. La volta in calo. Per scelta. Passaggio. E tiro. Perfetto. 4 a 2. Tripleto nel nostro Mussacchi. Ora è 33 gol ragazzi. E fa ne manco un 11. Per guagliare. E 12 per segnare. Mussà. Ce la puoi fare. Ma che ti cavo dei marchi? Come me lo spieghi? Si spalla ancora loro. Vai che usciamo così. Vai che usciamo così. Adama. Blin non può essere uscire adama. Cioè dai. Guarda. Lo tiene. Ma davanti. Non riesce a fare niente. Adama. Secondo pallo. Per Trincao. Eh. Sotto non ci fermiamo più. Ha dovuto osare espidarci. E gattoniamo. Gattoniamo verso il primo posto. La regola è contenta. Felice a lui. Trincao. Meravigliosa meta. Un gadam a destra quando ha spazio. Veramente è straordinario. Straordinè. Gianluca. Sì sì. Che giro il palo. Traore. Cerchiamo con. Come gioca questo lì. Come gioca. Traore. Non può segnare lui. Non ci fanno segnare raga. Veramente stiamo stavolta dominando. Come dobbiamo fare? E questo è il nostro gioco. Intensità. Vabbè. Poi lo vincorre in palli. Gottier. Esci. Bravo Gottier. Sempre lo vincorre in palli. Poi lo vinciono. E 5 a 2. Deve invece attaccarsi il pallone. Lo vuol dire la tripletta. Secondo verità. E ringraziatelo tutti. Grazie per la S. Dillipo. Guardate qui cazzo. Cioè questo. Tutto di prima. Cross. E quello è solo. Vabbè. Non voglio pensarci. Non pensiamoci. Continuate quanto è brutto proprio te. E questo Jones è che vuole amitare. Dai. Vuole amitare. Ma come ti permette. Come osi. Come osa questo va. I soldati di la sua squadra non ce le danno. Beh. Sembra che il progiment ha vinto. Però con questa vittoria. Se ne va a 8 punti. Che non sono pochi. Andersen. E' un po' di complimenti. Dove c'è un po' di odio e forza. Lì ho imbattuto. Va bene. Sì. Mi dobbiamo chiusi. Ora penso. Oh Dembélé. Non so se ci penserebbe. Non solo Andersen. Ma forse. L'ha messo risparmiato. Ah. Dembélé. Meno male. E' un stato di grazia. Adesso è visto. Il morale è che se non si abbassa. Cioè prima di andare a passare al massimo. Lui non si abbassa. Il morale non può essere al massimo. In questa squadra. Bene. Giochiamo con l'Inghilterra per la qualificazione. Penso. Lui gioca. Sono contento per te. Figlio mio. Mi ha messo tutti i figli. Sopre 6 ore. Alleniamo. E' meno che siamo anche primi col Belgio. Passiamo il primo e il secondo. Quindi magari. E' la Polonia che voleva noi. Cioè la Polonia e l'Inghilterra. La Polonia è la terza. 7 punti. 9 punti dalla qualificazione in pratica. Quindi meno male. Siamo. Sono 6 partite. Sono 6 squadre. Dimmi. 6 squadre. Quindi siamo 4 partite. Ci mancano. Sono Belgio e Inghilterra ora. Un po' Inghilterra Russia. Eh. Vorremmo anche simularle ora. Così ci troviamo vita in mezzo. Visto che si sono messi molto bene. Vediamo un po'. Adesso ho team 4. A me la squadra è Anderson Wicks. Dimmi. La squadra mi piace. La squadra è attacco e cose. Micidiale. Wicks. Anderson e Madison. Nei quali ci voglio. Io sono un po' meno. Ma poi sono forti. C'è l'Arno 87. Poi mi sa che l'85. Rushford. E qui. Popper. Abraham. Perché sono tutti questi attaccanti. Ci siamo un CC. Scusatemi. Mettiamo l'altro Cheek. E poi mettiamo anche Mount. Non c'è Grealish. Ok. Grealish che poi è forte. Non gioca questo. Grealish. Di che figlio sei? E poi metterlo a posto di Wicks in effetti. Dove c'è un CC o C qua. Che sa fare anche CC però. Ma anche Wicks. Vai. Mettiamo Grealish. Che sa fare bollo tutto. Più veloce. Più tiri. Più passato. Più dripping. Difesa. Un po' scarsetto. Anche fisico. Ma sì. Non abbiamo attaccato. Ci fai bene. Proviamolo. Vai. Contri il belge. Prima di France. Con l'offensiva. Se va bene. Lasciamo in caso lì. Grealish. Ok. Simuliamo questa partita. Nel studio fuori di casa. 3. 2. 1. Hai. 1-0 l'ora. Che ha fatto a volna. Vado a incertare dentro la Russia. Gol di Mertens. De l'oro con 3-4-1-2. Con il corto a De Donker. Denier a De Vild. Non so. Denier X. Januszaj. De Bruin. Naigolan. Carrasco. Lukaku. Azzard. Mertens. C'è mezzo la prima punta. Lukaku fa la seconda punta. Ma è segnato lui. Quindi non posso dire niente. Però siamo ancora lì. 6 punti sulla Polonia. Mi sono noto bene il cambio Grealish. Mettiamo di nuovo Wix. Andiamo un po' più difesa. Sì sì salviamo. Simuliamo questa. Dai ragazzi in Inghilterraise. E le voglia di foto sei debole. Con la Russia. 3. 2. 1. Gol di St. Perfetto. Perfetto. Loro con 4-2-3-1. Con Shenikov. Anche ne potete titolare. Baran. Ros. Poi Shenikov. Semenev. Semenev. Psikiav. Cherisev. Che ho messo un'ala. Poi Kutepov. Golevin. Golevin. sprecato, Fernand, Zobnin, Lisov e Smolov. Pratico, Cherishev e Golven, si li sono sprecati. Per il momento 9 quindi dobbiamo avere ancora i punti di vantaggio, possono bastarci. Possono bastarci, andiamo con i nostri e ci avviciniamo piano piano alla finale di Coppa Ligan BKT, che è scusa il momento 9, sono i campioni in carica fino ad ora, non si crescono, contento, e andiamo a questa partita. Belgio stanno a 2 punti, di nuovo perfetto, andiamo a andare via, andiamo a andare via, il torno di Fortunio, va bene, è tornato lui, ora ci sono le posizioni nazionali, e tutti vanno andare via, ma che succede? Che succede? Un altro vanno andare via, Bodry, ma che vuole da me? Vedete tutti in prima squadra, non lo so ma, vediamo un po', allora, c'è Deluc mi sembra che può ottenere 5, cosa vuole, ma vate, ma lei vabbè, c'è un 9 di C, ci può stare, ma lo chiamo. Ah, ho top giocatori, a volte dobbiamo parco, non andassene, c'è il giocatore, vattene, si, dico anche i soldi, vattene, stanno a 5, 18, stanno a 2, 16, Grun, 60, 18, provo anche a darlo via, Bodry, c'è il primo Oliver, lo muovi, si, l'altro, Deluc può anche andassare a quel paese, poi c'è l'altro, io sono di 17 anni, ah, c'è Bodry, il 17 anni è buono, no, chi devo togliere la prima squadra, vediamo un po', l'attacco, chi ce la togliere, le bello, qui, Spaschiesto, 18 anni, Navarro, il 17, Mirmic, Jessen, no, abbiamo troppi attaccanti ora, vediamo quanto che non mi dà, mi sa, San Patro, mi sembra, c'è Zabi, che ho tempo a 58, non te non ti cresce, figlio mio, ci vediamo, tiro 50 mila euro, devo andare, perdonami, e mettiamo lui, prendiamo più la squadra lui, che vale quasi un milione, 7 anni, e va bene, questo l'abbiamo fatto, bene, benissimo, non abbiamo l'impi, il lato contro il Lille, ma questo farremo nel prossimo episodio, quindi invito a lasciare un like, a commentare e di la vostra, e cosa avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e le notifiche nelle video che usciranno, e vi ricordatevi su Twitch, lo farei live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per essere di più sul mio lavoro, e da questo ragazzi, al prossimo episodio, dal prossimo interi, passo e chiudo.